Perché parlare degli abitudini alimentari dei miei gatti? Perché i miei gatti occupano la mia mente. Da questa mattina alle 5 e mezza, quando mio marito si è alzato e è andato a fare la corsa mattutina, io non l'ho seguito perché ultimamente dormo male, dormo poco, non mi addormento prima delle 2 del mattino, quindi alle 5 sono uno straccio. Prima di uscire ho avuto la malaugurata idea di dare da mangiare ai gatti Sputnik e Mazinga. Io poi appunto sono rimasta a letto a godermi anche tra l'altro quel po' di fresco, di brezza, che entrava dalla finestra spalancata durante la notte. Però non me la sono potuta godere più di tanto perché non so se quello che mio marito ha dato da mangiare ai gatti ci fosse anfetamina, cocaina, non lo so, ma i gatti sono impazziti. Mi stavano correndo sopra, cioè si rincorrevano per la casa e il letto, o meglio la mia persona, sotto il lenzuolino veniva usata come trampolino di lancio per poi fiondarsi sul tavolo, sul computer, su tutto quello che c'era attorno. Vabbè, quindi i gatti occupano la mia mente da questa mattina presto, poi naturalmente quando mi sono alzata alle 6, alle 6 erano tranquilli che dormivano, fanno sempre così. Perché? Cosa voglio raccontare? Ah, ecco, sì, che c'è il mio gatto, soprattutto Sputnik, che ha dei gusti alimentari abbastanza poco gatteschi. Io questa cosa la sapevo già, ma d'estate la confermo ulteriormente. va ghiottissima di melone. E soprattutto del melone le piace quella parte che noi solitamente togliamo, quella che ha sicuramente un nome scientifico, ma che io ignoro, a cui sono attaccati i semi. E qui i semi non li faccio mai nemmeno mettere in bocca, perché immagino che facciano male. Non lo so, comunque non li faccio mangiare, però le faccio mangiare quella cosa lì che noi buttiamo, perché non si mangia. A volte le do anche dei pezzi di melone per vedere se è solo quella cosa lì o il melone che mangia, le piace tutto. E lei proprio impazzisce, quando prendo il melone dal frigo, comincia a girarmi intorno, a miagolare, e poi quando glielo do solo, se lo smangiucchia, ha difficoltà a mangiare, perché i gatti non hanno molari, hanno solo incisivi e canini. Canini dovrebbero essere chiamati, gattini. Comunque, quindi ha difficoltà a farselo entrare in bocca, ma comunque lo mangia, si aiuta anche con la lingua rasposa, ed è al settimo cielo quando le do il melone da mangiare. Sì, ho provato a dare melone anche a Mazinga, perché Mazinga ci guarda in cagnesco, in gattesco, però gira la faccia dall'altra parte, come se volessi dire, ma tu sei scema, devo mangiare questa porcheria. Quindi, a Sputnik piace il melone.